Ma non è Anna? No, signorita, Anna non puede venir, le manca il tiembos. E siete forestiera? Spagnolas. Capirà, al mio paese mi sono scocciatas, capitos? Ma siete sicura di saper fare? Per la maiella, io so io la prima, la primiera massaggiosa del mondo. Va, va, sono tutte buone. Fa presto, svegliati. Beh, come va questa massaggiatrice? Non c'è male, un po' energica. Ma che sistema usate? Sistema Spagnolos. Avete finito? Un momentos. Mi gira la capezzas.